Questa sera domenica 15 maggio 2016 si apre ufficialmente la campagna elettorale dell'architetto Giuseppe Cofano e siamo in compagnia per l'appunto del candidato sindaco, architetto Giuseppe Cofano, al quale voglio chiedere su cosa verterà il suo programma elettorale, quali sono i punti più importanti del suo programma? Sì, come ho annunciato già diverse volte, noi cominceremo a riprendere in considerazione di riequilibrare quello che è lo squilibrio sociale in questa città, che in questi anni è registrato veramente un aumento della povertà. Classi sociali che oggi vivono in condizioni disaggevole hanno bisogno di un sindaco che li ascolti, di un sindaco che li accolga e poi dobbiamo rilanciare un'economia locale che ormai da anni è ferma e questo immagino di farlo attraverso il rilancio di strumentazioni che oggi abbiamo a portata di mano, a disposizione. Riprenderemo il percorso lasciato fermo del Pug che prevede l'espansione organico e strutturale di questa città, riprendere di nuovo a far costruire i cittadini, riprendere di nuovo l'organizzazione dei servizi che mancano sul territorio, la infrastrutturazione, riprendere il discorso di quella che è la caratteristica principale di Massafra cioè un'agricoltura che partecipe finalmente ad un meccanismo di sviluppo, riprendere quella che è la realtà sportiva e sociale di questa città perché hanno insieme entrambi l'obiettivo di formare e far crescere i nostri giovani. Questi sono i punti principali su cui puntare per l'inizio della prossima amministrazione e poi un'occhiata senz'altro ai conti a quello che oggi troveremo nelle casse comunali. Quali sono state le impressioni di questa prima serata, serata che lei ha definito la prima puntata? Stasera ho visto una piazza abbastanza attenta, ho visto una piazza piena, ho visto una piazza fatta da cittadini che non sono soltanto aderenti al mio progetto politico e questo mi rincuora, questo per me è una risorsa su cui poggiare il proseguo della mia attività elettorale in questo periodo e allora ho definito questa prima serata una prima puntata perché le cose del mio programma sono tante, le cose che ho da dire sono molteplici e soprattutto istruire il cittadino su un voto, su un voto autentico, sull'architetto Cofano del 5 giugno. Per non sbagliare noi dobbiamo riprenderci in mano di nuovo il comune di Massafra perché deve essere un comune per tutti i cittadini.